Una grande soddisfazione, un grande risultato la Coppa Sicilia della vostra accademia. Come siete arrivati nel giusto a questo grandissimo risultato? Allora, in frutto di più gare, di cui fanno parte cinque gare regionali. La prima, la seconda, la terza prova Coppa Sicilia, il campionato provinciale e il campionato regionale. Tutti i risultati danno sì un frutto a dei punteggi che vengono sommati e alla terza prova Sicilia hanno fatto sì che la nostra scuola di ballo vingesse il titolo di campioni assoluti siciliani. Chi erano i partecipanti, chi fa parte di questa vostra accademia che ha avuto questo prestigioso traguardo? Quindi, della nostra accademia, tutti i nostri allievi ovviamente, delle due strutture di Ribera e di Canigati e tutti insieme hanno contribuito con i vari punti che hanno acquisito nelle varie vittorie che hanno fatto in tutte queste gare. a raggiungere questo grande obiettivo. Fra le altre cose, siamo stati noi primi fin dalla prima Coppa Sicilia, quindi siamo riusciti a mantenerci in quella vetta fin dalla prima prova Coppa Sicilia ed è stata molto dura riuscire a tenerci sempre in quella posizione. Un grande risultato perché storicamente è la prima volta che una scuola di ballo agrigentina viene premiata come primo posto nel ranking delle eranze a coppie e contemporaneamente arriva tra le prime sei delle eranze a squadra. Quindi è un bellissimo risultato, questo per il settore amatoriale. Clara, quanto è importante oggi metterci oltre la passione, l'anima, anche la professionalità in questo settore? Beh, tantissimo perché è proprio la professionalità che poi dà bei risultati. Oltretutto abbiamo lasciato dietro di noi la scuola di ballo di Raimondo Todaro che tutti conoscono di Ballando con le Stelle che è arrivato in quinta posizione. Quindi questa è una dimostrazione del nostro sacrificio, dei sacrifici dei genitori ma soprattutto degli allievi che ci mettono tanto impegno in tutto quello che fanno. E fra l'altro c'è stata l'Ecostoli al secondo posto per tutto il campionato quindi diciamo che avevamo il loro fiato sul nostro collo per tutto il campionato e siamo riusciti però insomma a mantenerci al primo posto quindi grande merito a tutti i nostri allievi, veramente bravi. Qual è adesso il vostro prossimo passo, il vostro prossimo obiettivo? Allora il prossimo passo è sicuramente il nostro sesto festival della danza sportiva che si terrà a Porto Ambedocle a Palamoncato dove ne approfittiamo per invitare tutti i cittadini cani cattinesi e non solo, ingresso gratuito quindi uno spettacolo di grandissimo spessore e poi il campionato italiano che si terrà a Rimini la prima settimana di luglio. La danza non è soltanto per donne, per ragazze, ci sono anche gli uomini, i ballerini insomma dalle nostre parti qualcuno magari è emerso, qualcuno può emergere però è difficile l'approccio per un bambino in questo settore. Quando vengono da voi cosa dite? Come lo invogliate un ragazzo ad andare avanti nel settore della danza? Allora sta parlando con uno che ha iniziato a intraprendere questo sport circa 30 anni fa e si immagini se 30 anni fa questo era un problema oppure no però devo dire una cosa, è un tabù mentale che si sconvince in due secondi perché basta dire le parole giuste e basta saperli prendere e spiegare che il nostro sport, danza sportiva, è fatto, reparto al coppio ovviamente è fatto da un uomo e una donna che ballano insieme e io ho sempre la mia porzione magica che è quella di chiedere ai maschi di andare a domandare se i propri nonni maschi sanno ballare e chiunque va a chiedere se i nostri nonni sanno ballare i nostri nonni si vanteranno di saper ballare anzi ci diranno io sono stato un grande ballerino e allora se i nostri nonni, i nostri antenati uomini erano tutti ballerini non vedo perché nel futuro i maschi non dovrebbero ballare Voi siete coppia nella vita? Sì, noi siamo anche coppia nella vita condividiamo Sì Confermo Confermo, confermo Sì, lo voglio Condividiamo questo nostro lavoro, insomma questa nostra professione fortunatamente condividiamo anche l'amore anche perché per come lo facciamo noi con data dedizione lavorando giorno e notte rimarrebbe davvero poco spazio per trovarci altrove diciamo l'amore ecco quindi fortunatamente abbiamo condiviso le due cose e diciamo che meglio così va bene così Un po' che al lupo allora Crepi il lupo Crepi il lupo Grazie a tutti